Ritorno qui sul palco, vediamo cosa mi hanno regalato, perché qui è insomma Cineto, piccolo Sanremo, puri fiori, che grandi Grazie Sofia di questa cosa Ora vediamo, apro il bigliettino Come a Sanremo? Come a Sanremo? Allora, mi aiuti Chiara, vediamo chi ce li ha mandati C'è un bigliettino, eccolo qui Lo leggiamo in diretta, perché io voglio rendervi partecipi di tutto Eccolo qua, abbiamo il bigliettino C'è scritto, grazie della dedica, con amore Antonella Ma Antonella, grazie che ora lei non c'è più Però ringrazio tanto Antonella Campi Facciamo pubblicità al fioraio, l'orchidea blu L'orchidea blu Di Daniele e Deriva Perfetto, grazie tante Questi li mettiamo qui Abbiamo rimediato puri fiori E quindi io vado a fare l'ultimo brano con qualche ringraziamento Ringraziamento innanzitutto a voi Perché veramente siete stati fantastici Vi ho detto, qualcuno adesso fa freddo, è andato via Ma all'inizio c'era un'energia Ed è rimasta, perché se dice pochi Ma boni a Roma Quindi grazie in primis a tutti voi che siete venuti E che ci avete sostenuto Grazie al comitato che ci ha dato questa possibilità Io l'anno scorso sarei tanto voluta venire a cantare qui a Cineto Ma purtroppo una brutta influenza mi ha debellato E quindi non sono potuta venire E quest'anno Domenico e tutto il comitato ci ha fatto rifare Ecco ci siamo rifatti Così c'è stata l'opportunità di venire finalmente da voi E quindi il comitato l'ho ringraziato Voglio ringraziare Monica Il forno che ci ha fatto mangiare benissimo Grazie anche a lei Grazie a chi... Ah Scusa non ho capito Va bene Nicoletta il microfono Guarda non te lo do proprio più Poi adesso A parte tutti quelli di Cineto Ha un ringraziamento speciale a miei suoceri Anna e Michele che ci hanno dato la casa Per cambiare tutta la band Insomma quindi anche a loro faccio i miei ringraziamenti E poi il nostro service che è Alfio e Franco Che vengono addirittura da Monte Fiascone Sul lago di Bolzena Per farci dilettarci con questi suoni veramente belli Grazie a voi E le luci Suoni e luci, tutto E adesso veramente è arrivato il momento di fare l'ultimo brano Che sicuramente è un brano che sentiamo tutti E lo aspettiamo perché si intitola Ti sento Grazie a te Grazie a tutti Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te